Una superassociazione con all'interno un ruolo fondamentale dell'Andrangheta, un sistema economico finanziario criminale di livello internazionale che vede pezzi di imprenditoria di primordine, uomini politici, esponenti dei servizi deviati e massoni inglobati in un unico grumo di potere, in grado di mettere su quello che gli investigatori hanno denominato lo Stato parallelo. E' questo il titolo della mastodontica informativa depositata dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo al processo Breakfast e che è già in possesso del collegio difensivo da diversi giorni. Il procedimento vede sul banco degli imputati fra gli altri l'ex ministro dell'interno Claudio Scaiola e la moglie di Emedeo Mattacena Junior Chiara Rizzo con l'accusa di aver agevolato la latitanza dell'ex parlamentare che ancora oggi si trova a Dubai. Perno di questo sistema relazionale sarebbe Vincenzo Speziali, l'imprenditore che avrebbe dovuto occuparsi del trasferimento di Mattacena verso Beirut. Ma cosa tiene insieme tutte queste componenti visibili ed invisibili? Per gli investigatori si tratta del vincolo massonico che connota una superloggia che sarebbe una continuazione della P2. Nell'informativa vengono riportate a tal proposito le dichiarazioni del pentito Cosimo Virgilio nonché cene romane con immobiliaristi, faccendieri, fra cui i Cucci e capi di Stato esteri come Gemayel, una rete che si occupò anche della latitanza di Marcello Dell'Utri. Nelle carte spuntano i nomi dei fratelli calabresi Pino e Massimo Pizza, quanto al primo, Francesco Pazienza, uomo delle trame oscure d'Italia, racconta di averlo accompagnato ad una cena a San Batello, quartiere di Reggio Calabria, da Mimmo Araniti. Vidi che era amico di De Stefano, racconta. Il secondo si autodichierò appartenente alla struttura Gladio, salvo poi ritrattare. Consolato Minniti per la CNews 24.